Sono Luca Bortorami della Tigamaro, un'azienda di pelletteria, una pelletteria che produce per i grandi marchi del lusso. Sono qui al Global Forum per parlare di distretti, per parlare di distretti marchigiani, distretti umbri, ma più che altro per parlare di competenze. Io credo che sia importante, al di là della trasversalità della parte regionale, parlare proprio di competenze di distretto, quindi di territori che esprimono eccellenze, in questo caso per quanto ci riguarda, nella manifattura di altissima qualità. E credo che sia l'Umbia, sia le marche abbiano queste competenze. L'importante è farle tenere in vita, farle rivivere dove è necessario e investire perché soprattutto le nuove generazioni credano e si avvicinino a questi mondi.